Il romanzo di Alessa si intitola Arabesque, Arabesque che arriva da Debussy perché ha a che fare con la musica e ha a che fare con la danza. La protagonista, anzi diciamo personaggio che muore perché questo è un giallo, è una ex etuale che avrebbe potuto avere anche una grande carriera e in realtà poi non l'ha avuta che adesso gestisce una scuola di danza. Viene trovata morta, sembra morta per cause naturali e ovviamente non lo è perché altrimenti non sarebbe un giallo. Io non vi racconto più nient'altro altrimenti rovino le cose. Il protagonista invece è Alice Allevi che è la protagonista seriale di Alessia Gazzola, ovviamente è stata anche protagonista in tv quindi questo ha aumentato la sua fama. Il protagonista seriale è una medico legale, in realtà questo è il suo primo incarico ufficiale da medico legale, prima era una specializzante, una studentessa, insomma adesso è entrato nel mondo della partita IVA, della disoccupazione o perlomeno dei soldi che non arrivano. Questo invece è il suo primo incarico, viene riconosciuta come tale, c'è il magistrato, anzi la magistrata che le dà l'incarico di indagare. Lei indaga con i suoi metodi consueti, cioè che unisce la grande capacità di tecnica, proprio di intuito nell'indagare sulle cause della morte, di sezionare i cadavri, ci sono molti dettagli perché è il medico legale, ha quelle che sono le sue caratteristiche, che la rendono un personaggio straordinariamente simpatico, cioè goffa, impacciata, ha a che fare continuamente con l'autostima, ecco la parola autostima ricorre continuamente, autostima a palla, autostima sotto i piedi, insomma quindi è un personaggio molto vivo e molto vero. È un libro che mi è piaciuto particolarmente, si dice sempre così, ma in questo caso è vero, il giallo è un sottogenero, perlomeno viene considerato di un gene di serie B o comunque un sottogenero rispetto alla letteratura impegnata, ma in realtà non è assolutamente vero, di gialli se ne pubblicano centinaia, migliaia, io che lavoro a tutto i libri, quindi ho contatti quotidiani, se non ogni ora o se non ogni minuto con casa editrice, ecco mi arriva la notizia, ecco finalmente un favoloso debutto, in che cosa? In un giallo. Il giallo che dovrebbe essere questa categoria diciamo minore, in realtà è diventata la palestra dove tutti si cimentano, l'esordiente, il personaggio famoso, l'attore, il produttore, cioè tutti vogliono scrivere un giallo, è una cosa pazzesca. Che cosa succede? Ripeto, la faccio veramente breve ma ci tenevo a fare questa sottolineatura. Che cosa succede in questa straordinaria, magmatica, tsunamica produzione di gialli? Che tutti, o perlomeno la maggior parte, quando si cimentano con questo genere fanno un esercizio di ironia, di autoironia, cioè come se dia, sì certo la letteratura è quella di Dostoevsky, io mi cimento solo con il giallo, con il genere, e quindi c'è questo uso dell'ironia, dell'autoironia, che ha a che fare poi con i maestri tradizionali, cioè con quella che è l'origine stessa del giallo, perché il giallo nasce nella letteratura popolare dell'Ottocento, quando i giornali incominciano a parlare di delitti, la gente ha poco da fare, perché non c'è la televisione, non c'è la radio, sesso se ne fa poco, quindi ecco c'è la gente legge tanto, legge tanto, quindi si legge, si leggono romanzi, e nasce anche la letteratura poliziesca, perché i giornali incominciano a informare sui grandi delitti che avvengono nelle città. C'è la fiducia positivistica nella ragione, nella ragione umana, e quindi la ragione può sconfiggere, cioè la ragione può portare l'umanità chissà dove, e può anche sconfiggere il male, il crimine, e così nasce la figura dell'investigatore. E questo è il padre, questo Sherlock Holmes, Agatha Christie, che tra l'altro lei cita, dice a un certo punto Miss Purple tutta la vita, rispetto a Camilleri, forse ha anche ragione, e dicevo, ecco, questo è il personaggio classico che nasce nella letteratura inglese dell'Ottocento. Poi ci sono i suoi cascami, quando il poliziotto, il detective, nel romanzo americano, diventa l'anti-eroe, cioè non è più l'eroe che ha la possibilità di risolvere tutto, lo risolve anche lui, ma con i panni dell'anti-eroe, cioè un qualcuno che mette in ironia il proprio ruolo di protagonista che risolve tutte le cose. Ecco, questi sono i due rami nell'albero genealogico del giallo mondiale, e lì c'è anche il vulnus, lì c'è il peccato originale, perché? Perché i personaggi appunto dell'Art Boyle, che sono emarginati a loro modo, degli eroi e anti-eroe che sbevazzano, fumano, hanno le case disordinate, sono sempre sporche, cose del genere, cioè appunto sono degli anti-eroe, hanno gemmato, hanno clonato tutta una serie di personaggi nel giallo contemporaneo italiano, ma non solo, perché il giallo ormai lo troviamo in tutto il mondo, anche, non so, in Indonesia, in Peru, ovunque, ripeto, tutti scrivono gialli purtroppo. Ecco, questo uso dell'ironia e dell'anti-eroe ha portato a, secondo me, uno dei peccati forse più gravi della letteratura gialla contemporanea, cioè un uso smodato dell'ironia spesso fuori luogo, cioè sono come la barzelletta che quando uno la racconta non fa ridere. Ecco, spesso il giallo, il giallo, ripeto, contemporaneo italiano, e non pecca di questo. I personaggi vengono raccontati con questo eccesso di ironia, ma di un'ironia che li rende, perché ce ne sono migliaia di personaggi, di detective, e quindi si cerca sempre il dettaglio particolare, curioso, per farli emergere dal rumore di fondo. Allora il detective diventa uno scrittore famoso, diventa un qualunque cosa, insomma, perché non voglio fare citazioni. Ma tutto questo era per dire che invece il personaggio di Alice è un personaggio che spicca nel genere giallo tradizionale perché ha una caratteristica straordinaria, è un personaggio vero. Cioè tutto quello che succede ad Alice, tra l'altro è un personaggio che si evolve nel corso dei suoi romanzi, nel corso del tempo, è vero. Noi lo sentiamo come un personaggio autentico. E questo è uno dei grandi compiti della letteratura. Qui si potrebbero scomodare i grandi teorici dell'estetica, da Aristotele fino a Luca. Cioè cos'è che rende in un romanzo un personaggio autentico? La sua veridicità. Ecco, Alice è straordinariamente vera perché è una ragazza alle prese con le proprie difficoltà, con le proprie ambizioni, col fatto di essere donna all'interno comunque di un luogo dove forse il maschilismo funziona. Infatti poi magari la prima domanda potrebbe anche essere questa. E alle prese con l'amore, con i turbamenti del cuore. sceglie un personaggio, sceglie fidanzati forse sbagliati alla fine, perché uno l'ha mollata, un altro, non vi dico chi è, ma comunque si innamora. Ed è talmente vero che il lettore, soprattutto il lettore maschio, prova una simpatia quasi d'amore. deve dire, ma no, ma io sono meglio. Cioè ti viene da fare quella classica cosa, la roba da cervo, ecco la sindrome da cervo che vedeva tutti i maschi che lottano a fare le cornate per la cervo. Ecco, no ma io sono meglio perché poi lei mette dei piccoli dettagli su quello che è il maschio giusto. L'ex fidanzato, cioè il suo fratello, il fratello della protagonista, dice ecco è stato ben allevato dalla fidanzata che per l'altro l'ha mollato e svuota anche la lavastoviglia. Dice ma io, quando te lo leggi, ma anch'io, perché ci si innamora. Cioè è un personaggio straordinariamente simpatico, straordinariamente vero. E questa è la forza, la straordinaria forza che rende i romanzi della gazzola davvero unici e davvero letterariamente pregiati perché riescono a mescolare con un'abilità veramente rara quello che è il meccanismo del giallo tradizionale, cioè Agatha Christie, perché Miss Marple credo che sia un personaggio di riferimento, con quella che è invece la letteratura leggera, cioè la Kinsella, la Bridget Jones. Insomma, fare una mescolanza straordinariamente ben riuscita che rende i suoi romanzi davvero unici e che spiccano nel mondo del giallo dove spesso i risultati lasciano a desiderare. E io partirei proprio con questa domanda. Cioè a un certo punto, ecco, la protagonista è una donna, cioè una ragazza, anzi una ragazza medico-legale, e a un certo punto c'è una, io non me la ricordo più la battuta, ma me l'ero a... Ecco, c'è Caligaris che a pagina 259, quando lei viene chiamata nel... Tra l'altro, ecco, Alice è anche una straordinaria, questo la rende vera, consumatrice di junk food, perché gli sta mangiando un ringo dopo l'altro, cioè delle porcherie, mangia delle porcherie, ecco. Va bene, e a un certo punto il criminologo dice, ecco, nella mente delle donne si crea un cortocircuito di cattivi sentimenti. Alice Obietta, ma perché sono nelle donne un po' piccata? Ecco, per dire, ecco, la criminologia, qui noi ne sappiamo qualcosa, perché la criminologia nasce qua a Torino con Lombroso, insomma. Ecco, la criminologia ha qualche cosa di maschilista e sessista, secondo te? Beh, come dire, partendo da Lombroso, onestamente sì, è il primo che giudicava dalle apparenze, se vogliamo dirla tutta. Però, ecco, sicuramente adesso si è evoluta, i modelli di riferimento sono cambiati e questo chiaramente ha un po' svincolato il discorso dei sessi. Naturalmente loro hanno poi questo rapporto, Alice, con questo, adesso è un vicequestione aggiunto, l'ho fatto promuovere, si chiama Calligaris, e hanno a volte un po' questo rapporto che parte appunto già dalle differenze di gusti letterari, come giustamente tu hai citato, lei è per Miss Marple, lui invece è per Montalbano, forse perché lui appunto è un po' liziotto vero, e invece dall'altro lato Miss Marple, un po' come Alice, è un po' una pettegola, ecco, diciamola, no? E quindi loro partendo, insomma, da questo tipo di gag che si fanno fra di loro, ogni tanto si fanno anche, se il caso battute, di questo tipo. E quindi questo ci sta, è un po' nel gioco dei ruoli. Lui è un po' quella figura appunto, magari la potremmo considerare più hard-boiled, se non fosse che poi è accasatissimo, c'ha due gemelli, tipo c'ha la moglie, l'ho chiamata appositamente, Clementina, per far capire quello che è, insomma, il suo setting. E più, quindi, questo discorso di gag che hanno fra di loro, più il discorso legato al stessismo, perché secondo me ormai la criminologia si è un po' smarcata, ecco, è più un retaggio. Ecco, naturalmente i tuoi romanzi sono scritti in prima persona, tu nella vita fai quella roba lì e quindi l'ovvia domanda è quanto c'è di tuo in Alice, insomma. Ok, sì, ma guarda, io ho passato anni dicendo che in definitiva era un personaggio completamente di fantasia. Invece, più passa il tempo, più mi rendo conto che nonostante due percorsi di vita che ormai sono diversissimi, perché lei continua ad essere un medico legale, anzi, sempre più appassionato e sempre più determinato nella costruzione della sua identità professionale, io dall'altro lato la medicina legale l'ho lasciata, l'ho lasciata da poco, ma l'ho lasciata. E quindi abbiamo anche una vita diversissima sul piano personale, quindi mi sono sempre detta tutto è, forché autobiografico, del resto non c'è veramente più un punto di contatto. Eppure mi rendo conto che certe sensazioni che io le do, alla fine sono le mie. Già a partire dai tempi dell'allieva, quella sensazione di inadeguatezza era quella che io ho sempre riconosciuto come il tratto principale che ci accomunava, ma in realtà poi alla fine ci sono in realtà altre cose che sono probabilmente nel modo forse di vedere la vita o di elaborare anche a volte le emozioni, cosa che per Alice è molto difficile e in realtà lo è anche per me. E quindi c'è un qualcosa sicuramente di me, ma del resto è difficile scrivere con la prima persona dando un'identità che è diametralmente opposta. Ci sono dei punti di contatto, pur riconoscendo che ormai sono due vite totalmente diverse e che quindi non si tratta di un qualcosa di autobiografico in quel senso lì. È altrettanto vero che io molto di me lo metto in tutti quanti i personaggi, magari delle riflessioni che non do ad Alice, le do ad altri personaggi. Quando mi sento, quando la mattina mi sveglio un pochino con la luna storta, le riflessioni le do a conforti ovviamente. Quindi mi sento che chiaramente è tutti i giorni con la luna storta. Perché del resto tutti quanti noi siamo così, forse abbiamo tutti quanti più identità e magari in base alla giornata, in base a come ti prendono le persone in quella determinata giornata, tu mostri un lato di te. E allora analogamente nei miei libri io mi sparpaglio fra tutti quanti i personaggi, sicuramente dando maggior voce magari al personaggio di Alice, senz'altro. Ecco, a proposito della sensibilità e della raccolta delle prove, perché in un romanzo giallo il personaggio, il protagonista principale, cioè quello che deve indagare, ovviamente cerca le prove. Questo fa parte del meccanismo proprio del genere. Ecco, e per dire quanto, e questo mi ha colpito, per dire quanto è sincera e quanto è quindi credibile come personaggio, Alice le prime prove che raccoglie, le raccoglie con questa sua sensibilità femminile, cioè arriva sulla scena del delitto, la prima cosa che nota, non so, è nota il vestito, nota, oppure non so, il trucco, parla di una ruga, cioè che sono dei tratti tipicamente femminili. E il primo indizio che lei trova, e ripeto, è questo che la rende estremamente credibile, rispetto a tantissimi personaggi che fanno lo stesso mestiere di Alice e che poi nella letteratura non sono credibili, e che a un certo punto, non so, c'è un servizio di tazzine. Ci sono delle tazzine, e lei vede che sono soltanto cinque, e quindi dice, no, sono cinque, giusto? Adesso, Dio, buono sbaglio. Sono soltanto cinque, e quindi lei pensa alle tazzine, e dice che c'è la sesta che manca. Ecco, per esempio, un detective maschio, una cosa del genere, forse non l'avrebbe notata. Perché? Ma perché lei lo nota? Perché sua madre o sua nonna aveva questa cosa. Ecco, e di lì, avanti, poi, e di lì, insomma, non ve lo racconto, perché appunto fa parte del meccanismo del giallo. Però, appunto, la raccolta delle prove, la raccolta degli indizi, l'occhio con cui lei guarda la scena del crimine è straordinariamente femminile e quindi la rende davvero credibile. Ecco, la nonna. La nonna è un personaggio particolare, perché la nonna ha legge con la sua saggezza, ogni tanto, ha legge con la sua saggezza indiretta, perché per Alice è un punto di riferimento, cita le cose che dice la nonna, c'è una roba, c'è una bellissima sulle parole, che dice a un certo punto le parole... Una volta che le hai pronunciate, loro che comandano la te, fino a quando non le hai dette tu sei libero, ma una volta che le hai dette... Sono loro che ti comandano, cioè per dire stai attento a quel che dici, perché se... Ecco, la nonna dice cose meravigliose, sembra un filosofo classico, ecco, che cosa rappresenta la nonna? Perché poi tu invece ringrazi alla fine la nonna. Cosa rappresenta la nonna? Beh, la nonna, chiaramente, io me la sono sempre immaginata come la versione di Alice a 80 anni, quindi tra le due intercorre innanzitutto una affinità elettiva ed emotiva molto forte dovuto al fatto che si somigliano tanto anche caratterialmente, quindi io mi immagino questa nonna come una vecchina un pochettino svampita, però ormai è arrivata a 80 anni forte di una sua saggezza, naturalmente, acquisita per via delle esperienze, insomma alla vita e via dicendo, mentre Alice ancora è molto naif rispetto a tante esperienze, una che ancora brandellate e tutto sommato non impara la lezione. La nonna la lezione l'ha imparata e quindi su tante tante cose magari la mette in guardia. La nonna è un po' un bacino di raccolta di tutta una serie di cose, riflessioni, frasi, detti, cose che per me naturalmente fanno riferimento ai miei nonni. Infatti la nonna nel mio caso non è soltanto la nonna, ma c'è molte cose che io ho fatto dire nel corso dei romanzi, se il caso l'aveva detto il mio nonno, ma ci sono anche nonni di mie amiche, perché naturalmente le mie amiche che lo sanno, se la nonna il giorno X se ne esce con uno svarione particolare o con qualcosa all'altro lato particolarmente saggio, me lo vengono subito a raccontare. E altre volte, siccome ho fatto comodo, perché la nonna, cioè sì, è saggio, però le cose le dice, ho piacere che le dica in maniera molto buffa, esattamente come fanno i miei nonni. Quindi a volte ho messo in bocca alla nonna anche delle cose che in effetti non hanno il copyright dei nonni, ma che ne so, una volta mi pare in un romanzo le ho fatto dire una cosa tipo le corna sono la pace della casa, che in effetti non aveva detto mia nonna. Però ecco, insomma, questo per significare come lei è questa vecchina molto allegra, che prende veramente con filosofia la vita e quello che probabilmente cerca di trasmettere maggiormente alla nipote. Alice le succede qualcosa, dice, si fa il bel piantone, poi sente la nonna, si sente insomma meglio e riparte. Ecco, ha quella funzione lì. Un'altra cosa importante di Alice è che la rende appunto sempre vera, perché insisto molto in questo, ma perché ripeto è la cifra stilistica di Alessia Gazzola più riuscita. Alice ha anche a che fare con i turbamenti dell'animo, si innamora appunto di il suo fidanzato la mollata, adesso ne trova un altro. E poi quando c'è una scena di amore carnale, dicevamo prima, è anche questa una particolarità, secondo me molto molto riuscita, quando c'è appunto questa scena diciamo di sesso, ecco lei spegne la luce, cioè non c'è praticamente, non racconta neanche un bacio, e secondo me è una scelta giusta, perché raccontare la sessualità è la cosa più difficile del mondo, perché è anche la cosa più ovvia, esperita, e quindi più noiosa, cioè come raccontare ogni giorno il sole, basta, ecco, è una fatica, ecco, perché spegni la luce e non racconti nulla? Devo dirci, fondamentalmente è una questione di scelta, è una scelta di gusto per me, innanzitutto anche io quando leggo dei romanzi non ne sento la necessità, io da lettrice mi rendo conto che anzi alcune volte mi sembra così voglieristica, assistere a queste scene, poi io nel mio caso che ormai questi personaggi li conosco veramente come se fossero parenti, Alice e Conforti, ma a me veramente mi farebbe proprio tanta tanta specie cioè immaginare proprio l'atto e quindi devo dire che spengo la luce sia per una questione proprio di gusto estetico mio, cioè di voler anche lasciare in qualche modo al lettore la libertà di immaginarsi le cose come sono, sia piacere di indugiare nell'immaginazione che lo faccio se no si va subito avanti penso che comunque non sia in ogni caso come dire il fuoco del romanzo a me piace trasmettere quelli che sono sempre i suoi pensieri le sue riflessioni e quindi lei in quel momento mi immagino che lei non stia pensando ecco molto banalmente lei in quel momento si sta abbandonando quindi non ho cosa raccontare di quel momento e ogni tanto io mi sono resa conto che a volte un po' alcune lettrici un po' di questo me ne vogliono e me lo dicono mi scrivono privatamente via facebook e mi dicono sì pensieri pensieri ma e io dico anche un po' immaginatevela e comunque credo che faccia proprio parte anche di una forma forse anche di pudore mio non riuscire neanche volendo a scriverla pertanto si va così dato che la tua carriera ha avuto anche poi questo sviluppo appunto della serie televisiva dove tu a un certo punto proprio nei ringraziamenti in lunghe pagine di ringraziamenti dici ringrazio anche gli autori insomma perché ti hanno ecco perché in qualche modo la serie televisiva ti ha aiutato anche a cambiare prospettiva nel modo di scrivere ecco in che modo ti ha cambiato la scrittura sapere guarda io sinceramente penso che sia stato un grande arricchimento per me è stato probabilmente anche un piccolo condizionamento però io non lo voglio mai vedere come un qualcosa di negativo e quindi dico che in realtà è stato un arricchimento e questo perché l'esperienza della scrittura è un'esperienza che si svolge in solitaria succedono le cose che voglio io come le dico io come le penso e le scrivo e nessuno in definitiva mi viene a dire niente diversamente l'esperienza della scrittura per la serie televisiva è un lavoro di squadra che è soggetto a tutta quanto una serie di variabili che sono chiaramente i punti di vista della produzione della serie della rete committente che non sono la stessa cosa del regista per finire anche agli attori perché poi gli attori pure dicono la loro e quindi subentrano talmente tante variabili determinate veramente dalla percezione dal gusto dallo stato d'animo di talmente tante persone che sei costretto un po' a riconsiderare anche cose che a te sembrano assolutamente note stranote perché giustamente io cosa pensavo che sui miei personaggi meglio di me chi può mai sapere e invece scopri che in realtà anche a comparsa c'è da dire e io da questo punto di vista ritengo sinceramente che ascoltare altri modi di vedere la stessa storia mi abbia veramente indotto a tratteggiare i personaggi probabilmente in maniera più rifinita questo magari riguarda meno i personaggi principali che sostanzialmente corrispondono ma riguarda molto i personaggi secondari sullo sfondo immaginarli per una serie televisiva dove ognuno deve avere un'identità ben precisa in realtà credo che mi abbia aiutato moltissimo e che rispetto ai primi libri i personaggi secondari negli ultimi libri da che io ho cominciato a lavorare prima la prima serie ora la seconda per me ormai la seconda è finita paradossalmente ancora deve andare in onda ma per me l'esperienza è andata perché la scrittura è già stata fatta e quindi personaggi come per esempio il fratello che in questo libro è molto presente e che mi rendo conto è molto più vivo negli scorsi romanzi lo era molto di meno semplicemente perché io non lo avevo a fuoco io per prima invece quel tipo di scrittura mi ha fatto mettere a fuoco anche tutte quante le identità che mi devono tornare perfettamente e questo io credo che sia stato un grande apprendimento da un punto di vista proprio della costruzione di tutti quanti i personaggi della storia che chiaramente poi una volta che tu lo impari per uno lo impari per tutti e quindi anche per i personaggi del giallo e quindi io penso che per me sia stata comunque comunque la simetta un'esperienza di entusiasmante e soprattutto è come se avessi fatto veramente un corso accelerato perché non sono andata a una scuola di scrittura nemmeno di sceneggiatura ma è stata veramente una palestra mi ci sono trovata e ho dovuto imparare le prime cose che mi arrivavano non sapevo neanche che cosa dire quando andavo alle riunioni facevo la bella statuina non avevo veramente che dire poi via via ho imparato ho imparato come mi dovevo comportare e cosa potevo fare e come potevo intervenire in questo mondo che per me era completamente diverso pur partendo da delle storie che erano mie quindi francamente il mio debito nei confronti di questa serie televisiva tanto la prima quanto pure la seconda anche se con i dovuti accorgimenti per me il mio debito è grosso e questo io lo dico perché è così sì sì ma ecco questo rientra appunto in quello che dicevo della credibilità dei personaggi Alice soprattutto ma anche tutti gli altri cioè non sono delle macchiette non sono non sono dei personaggi superficiali ognuno ha una sua vita appunto il fratello è simpaticissimo perché è un emblema poi dei ragazzi giovani cioè precario a vita si fa le canne mollato dalla fidanzata però sa sa svuotare la lavastoviglia quello è un requisito indispensabile questo è un argomento per me sempre molto caldo secondo me perché io odio svuotare la lavastoviglia ormai lo sanno tutti in tutti i miei lettori in tutta Italia lo sanno che io odio svuotare la lavastoviglia vabbè si è capito che a casa mia lo fa mio marito e di fatti sono questi ecco invece per esempio io non lo so ma perché Alice si innamora poi di Conforti io veramente lo trovo così antipatico Conforti è il personaggio più odiato dagli uomini lo so cioè è insopportabile te l'ho detto io le battute su le scrivo quando ho la luna storta ma ho capito ma veramente antipatico invece lei ci muore dietro ci muore è sempre stato così e ahimè Temu sempre sarà e perché c'è comunque un assortimento fra di loro e poi sì poi in questo libro certo lui ogni tanto ha dei momenti di ego che risultano secondo me abbastanza indigesti anche a lei e infatti lo pianta in 13 io sono stata molto felice di scrivere quella scena quando a un certo momento lei cioè si ribella a questo stato di cose è una caccia è un po' il gioco il meccanismo è il gatto col topo solo che ogni tanto lui è il gatto ogni tanto lei e il topo è viceversa c'è sta cosa fra di loro c'è sta dinamica e poi secondo me lei ha una forma di innamoramento che deriva dal fatto che lui è stato il suo maestro e questo secondo me è una grandissima componente per lei perché lei non riesce più a scindere i ruoli io che ho già in mente il romanzo che sto scrivendo perché poi il paradosso di quando si presenta un libro è che io mi trovo a dover parlare di arabesco quando io completamente sono già in un altro mondo e quindi mi viene per forza il riferimento però nel libro nuovo questo aspetto lo sto toccando non riescono loro più ormai a scindere i ruoli per cui lui la tratta sempre come l'allieva squinzia e lei dall'altro lato c'è sempre un po' quella soggezione del suo grande mentore che lei tipo stima a dismisura perché lo considera un grandissimo medico legale e per lei tipo la medicina legale è comunque il suo sogno la sua passione e queste due cose non si riescono più a scorporare cioè l'uomo con forti è anche il mentore non li riesce più a scorporare è un innamoramento che parte dall'intellettuale naturalmente passando attraverso il fisico e poi arrivando a qualcosa che è proprio dell'anima e quindi le tocca ma del resto l'uomo è imperfetto cioè anche nella vita di tutti i giorni ci si innamora di soggetti un po' così le mie elettrici forse si immedesimano anche per questo le elettrici magari i lettori hanno quel meccanismo che dici tu no voglio dire questo è la roba da come dire manuali di criminologia cioè l'assioma è che le donne si innamorano sempre dell'uomo sbagliato e questa è la conferma e poi Alice va in visibilio per delle cose che dici ma che cazzo ha fatto cioè l'ha portata all'Ikea e lei Dio ma l'ha portata all'Ikea dice ma uno si il grande passo per l'uomo non so un maschio si sforza di fare chissà che cosa effetti speciali portare all'Ikea ma perché sono le piccole ma perché vedi poi alla fine sono le piccole cose cioè alla fine Alice è una ragazza semplice non vuole la luna voleva soltanto essere portata all'Ikea l'Ikea naturalmente quale metafora di tutta quanto una soggezione finalmente domestica di quest'uomo che in qualche modo si arrende e quindi l'Ikea quale metafora cioè lui ha fatto questo passo banalmente si saranno pure divertiti anche lì ho spento la luce ma io immagino che ho voluto che per lui fosse anche in qualche modo un passo verso di Leccio della serie a me a me frega niente andare all'Ikea il punto è che se tu desideri tanto questo io ti do questa opportunità la do anche a me di vedere com'è l'Ikea inteso come vita insomma a due a tutti gli effetti e intanto questa cosa dell'Ikea le mie elettrici sono impazzite ma veramente quindi va bene cioè io credo che l'Ikea con me abbia un debito perché in quella prima settimana dell'uscita del libro tutte quante le elettrici ma quelle però quelle incallite quelle lo zoccolo duro si sono tutte quante fatte portare dal fidanzato all'Ikea ci sta un'impennata del fatturato questo è da segnalare ma voglio sperare che io sono la prima che fa fatturare l'Ikea per tanto ma si chiama product placement questa cosa qua quindi bisogna sollicitare dunque vedo che stanno arrivando domande allora un'ultima cosa che io volevo chiedere poi lasciamo spazio le domande scritte ecco una cosa ogni capitolo di questo romanzo parte con un esergo una citazione da scrittori sono i più disparati si va da Sentexupery a Gozzano allora questo dimostra due cose anzi forse una la cultura la cultura versatilissima della scrittrice dell'autrice e dimostra anche che per poter essere un bravo scrittore bisogna essere anche un bravo lettore un attento lettore e spesso le due cose non vanno d'accordo ma io volevo chiedere un'ultima cosa tra le citazioni in fondo tutti i ringraziamenti sto andando a memoria metti Elisabeth von Arnim ed è riconoscibile ed è riconoscibile c'è Zweig Zweig ecco Zweig invece questo questo io non l'ho trovato cioè ecco Zweig era 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 il 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 mentor era dov'è dove è dove è Zweig Zweig è in due cose Zweig è quando Alice sta per fare l'esame e sente il battito del pendolo e il pendolo le restituisce la tranquillità del suo cuore questo è Zweig e gliel'ho presa a basse mani quindi insomma andava come minimo ringraziato e poi c'era sì sì è proprio il suo e poi c'era la la cosa non vorrei fare lo spoiler a me stessa però insomma lo faccio e quando c'è i biglietti quel meccanismo un po' del del ricatto che poi in realtà parte da una persona familiare per me è Zweig ok cioè è un piccolo debito che io con Zweig perché era il meno riconoscibile cioè ho trovato tutto ma anche paradossalmente c'è Gozzano che tra l'altro è un poeta così particolare insomma c'è anche Gozzano qua dentro sì perché Gozzano è stato un grande poeta della mia adolescenza devi sapere sì a me piaceva da morire io questa poesia Cocotte io non lo so perché mi piaceva tantissimo e sapevo interi pezzi a memoria tra cui appunto io penso di averlo intercalato in qualunque libro non amo che le rose che non colsi che è il mio grande classicone che mi commuove da quel dì da quando avevo 17 anni non amo che le rose che non colsi e che secondo me è tanto poi lo spirito secondo me un po' di di tutti no del desiderare di avere sempre quella forma quel sentimento di attaccamento e nostalgia di quello che paradossalmente non si è avuto e quindi cioè Bozzano quando ci sono questi tipi di sentimenti io ce lo infio è proprio più forte di me ecco Zweig poi dammi fogli perché se no continuo a parlare no Zweig c'è un romanzo straordinario che ha a che fare anche poi con il con la con la follia e forse anche con la che è Amok tu lo conosci questo Amok perché Amok apro parentesi perché viene da dirlo Amok è questo termine che a noi non dice assolutamente nulla ed è il titolo di un romanzo mentre nella letteratura tedesca di lingua tedesca ma anche in materia europea ha un significato enorme perché Amok è questa cosa straordinaria scoperta da un è una parola malese un antropologo nell'ottocento un antropologo ovviamente tedesco studiando sul campo una popolazione malese scoprì questa cosa pazzesca c'era questa usanza in questo popolo che a un certo punto qualcuno nei villaggi impazziva e incominciava a correre a correre da un capo all'alto del villaggio ammazzando tutti quelli che trovava e finiva questa corsa folle finiva poi con lui che veniva ammazzato oppure veniva ammazzato durante la corsa se uno cercava di difendersi ecco Amok è questa qui quando uno perde la testa era un meccanismo di follia studiato appunto da questo antropologo che colpì talmente il pubblico tedesco che il termine Amok è entrato nella lingua corrente cioè come come modo di dire e si dice correre in Amok intraducibile correre in Amok e c'è un romanzo di Zweig invece un romanzo amoroso dove l'Amok esatto è la follia amorosa insomma quella che quella che prova Alice per conforti per conforti va bene invece qua è arrivato è arrivato una sono arrivate due domande intanto grazie perché la tua che scarpetta tra virgolette perché ovviamente mi ha incuriosito e mi ha fatto conoscere e amare la Conwell ma come fa Alice a essere tanto razionale quando si tratta nella sua vita della sua vita sentimentale e nello stesso tempo essere tanto empatica nei confronti degli altri e di conseguenza nella ricostruzione dei gialli e poi c'è anche un ringraziamento grazie Angelica lei innanzitutto ciao Angelica ovunque tu sia allora la razionalità di Alice nella vita sentimentale è un qualcosa che lei si sta un po' imponendo negli ultimi tempi no perché all'inizio soprattutto lei era una che veramente si abbandonava in realtà a tutt'altro all'irrazionalità soltanto che in qualche modo ha dovuto pagare delle conseguenze di questo no Alice fino ormai faccio lo spoiler a me stessa fino all'anno scorso libro si doveva sposare con uno che non era con Forti lo diciamo sicuramente i lettori quelli che già conoscono la serie sanno di cosa sto parlando insomma è stata una bella batosta quella che lei ha preso lei a un certo momento le ho fatto dire era Arthur sì no ormai per altri Lady però che cosa le ho fatto dire a io ad Alice in quel libro lì che non è arabesco io ho fatto dire che lei Arthur l'ha tradita col pensiero neanche con i fatti perché non volevo poi troppo sporcare sto personaggio che invece per me a me era molto caro però faccio fare un mea culpa ad Alice che dice io stesso ho tradito Arthur con l'idea che io avevo di lui cioè Arthur è questo ma io nella mia mente me l'ho fatta un film me lo immaginavo diverso quindi è chiaro che lei adesso cerca di essere molto più inquadrata e razionale nel modo di relazionarsi con l'altro sesso deve o se no soccombe e che dirti l'empatia è una caratteristica che io le ho dato perché se no diversamente noi non ci potremmo mai spiegare il perché lei si mette poi a fare queste sue indagini parallele perché se no l'alternativa doveva essere un discorso di curiosità ma allora la curiosità finché è una forma di curiosità ovvero di interesse nei riguardi dell'altro allora questo a me piace dall'altro lato potevo anche avere il timore che il personaggio risultasse morboso perché Alice è una che ne so che trova la lettera e a me questo è successo devo essere sincera questa è una cosa che è successa a me quando ancora facevo veramente il medico legale che ho trovato tutta quanto una lettera in una in una bara e me la son letta poi mi sono pure sentita in colpa perché ho detto non è magari non ero cioè non avrei dovuto però è stato più forte di me l'ho letta poi ho fatto tutta quanto una serie di miei pensieri che mi sono portata dentro allora nel momento in cui l'ho fatto succedere ad Alice io ho voluto che fosse veramente la forza dell'empatia cioè il non rassegnarsi al fatto che quello che lei ha di fronte è un corpo vuoto un contenitore è qualcosa che non ha non ha più vita lei quella vita in qualche modo è come se la volesse restituire attraverso l'empatia che lei prova verso naturalmente dei casi in particolare che io mi sono andata a immaginare lei in determinati casi lei ritrova magari qualcosa di sé e del suo vissuto o magari ne viene attratta per una forza che la spinge insomma a volerne sapere di più e per me quella forza è l'empatia ed è quello che io ho scelto di darle ripeto l'alternativa avrebbe dovuto essere magari una curiosità che poteva in qualche modo non essere coerente con il personaggio come lo volevo io come coniughi scrittura presentazioni figli e marito allora c'è stato fino a quando facevo pure il medico non coniugavo scoppiavo era proprio quello il punto e quindi mi sono resa conto che la cosa non era più sostenibile adesso sinceramente a me sembra una vita molto tranquilla molto rutinaria quasi quasi da impiegata tutti i giorni io scrivo anzi vabbè la mattina mi occupo completamente delle bambine le porto all'asilo con i nostri tempi poi io scrivo tutto quanto il giorno fino per giù alle tre e poi mi vado a prendere le bambine sto tutto il tempo con le bambine preparo la cena c'è una vita talmente tranquilla e lineare ogni tanto mi sposto quando appunto sono qui ho chi aiuta a casa ma in realtà non faccio neanche tante presentazioni proprio per non spostarmi troppo quindi devo dire che da che io non faccio più il medico legale è diventata una vita assolutamente sostenibile da un punto di vista dei ritmi anzi certe volte col fatto che mi ero abituata a un ritmo forse innato certe volte mi pare pure troppo quieta quindi lo faccio in maniera molto adesso tranquilla senza problemi ma perché questo qui non è scritto qua ma perché hai mollato l'attività di medico legale perché non ce la facevi più non c'erano proprio più i tempi non ce l'avano e hai scelto la scrittura sì ma proprio ma tutta la vita la scrittura e allora perché perché eri arrivata a fare il medico legale no ma guarda io sinceramente la medicina io l'avevo scelta con molta passione e molto entusiasmo sia la medicina quando all'epoca ho fatto la scelta ai 18 anni e poi anche la medicina legale che nella mia vita è arrivata in realtà in maniera casuale se vogliamo perché io non stavo facendo non ero né studente interna lì né stavo facendo la tesi in medicina legale io mi sono trovata nei laboratori della medicina legale perché facevo un altro progetto di ricerca di un'altra disciplina però insomma si sa come funziona nelle università nelle cose insomma non è che ogni istituto ha un laboratorio per cui ci si appoggiava a quello della medicina legale e andando lì ogni giorno mi sono resa conto che tutto sommato questi facevano una vita molto stimolante che mi incuriosiva e quindi poi da lì è arrivata la medicina legale che io comunque ho scelto veramente con passione ora perché a me mi è andata bene con i libri ma a quest'ora io ero a fare comunque il mio lavoro di medico legale assolutamente contenta di farlo certo devo dire però che la scrittura è un qualcosa che io ho sempre cioè che mi ha accompagnato sin da quando ero veramente piccolina c'è un amico di famiglia che conserva un bigliettino da visita fatto da me su un foglio sai la carta quella là del quaderno delle elementari della terza elementare con le righe alternate ho scritto adesso è già la scrittrice quindi io francamente mi ci sono sempre vista ma perché sono sempre cresciuta nel mondo dei libri in questo vedi fa tanto secondo me la propensione come fa anche tanto l'educazione cioè a casa mia mia madre mi faceva proprio leggere tanto anche lei un po' scriveva quindi è un qualcosa che è sempre stata con me e per me scrivere è necessario io l'ho sempre fatto e se dovessi scegliere fra fare il medico legale e la scrittura io sinceramente non ci ho pensato due volte ho scelto comunque la scrittura perché mi dà comunque più gioia potendole fare tutte e due come ho fatto fino a lui io sarei stata contenta ma io penso che poi uno debba anche un po' farsi delle priorità comunque per me la priorità sono le bambine e sono piccoline e quindi in quell'anno lì in cui mi sono ritrovato in una città che non era la mia d'origine e quindi senza aiuti io ho voluto provare a farlo però mi sono resa conto che non c'ero proprio il margine per passare del tempo di qualità con le figlie e allora alle figlie rinunci ma no alla scrittura puoi rinunciare no alla medicina legale puoi rinunciare sì ok ma ecco qual è stato il caso il giallo vero più bello che ti è capitato da medico legale senza fare i nomi ovviamente ma guarda sono sempre stati tutti nell'immaginazione in realtà Messina non ha mai proposto dei casi particolarmente coinvolgenti sul piano di quelli della cronaca non è mai capitato niente di che a me la cosa che più mi ha assegnata come medico legale è stato quando a Messina c'è stata l'alluvione e sono morte ora 32 persone 32 persone che sono arrivate in istituto nel giro di 48 ore e per noi è stata una tragedia comunque senza precedenti cioè si può andare a ritroso nel tempo veramente soltanto al terremoto che sono state migliaia però insomma da quell'evento in poi una tragedia così non c'era non c'era stata 32 comunque è un grande numero e chiaramente l'abbiamo dovuto lavorare senza sosta perché 32 che arrivano in un paio di giorni tutti insieme è stata veramente quella forse la cosa che più mi ha mi ha provato a un certo punto mi sono detta ma chi me l'ha fatto fare perché è stata forte è stata molto pesante però per il resto sono sempre stati noi ci sono stati ammazzatine di mafia ecco che venivano dal barcellonese questo sì ma ci sono stati eh sì 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 però nulla di come dire sul piano narrativo nulla che mi abbia poi veramente perché era chiaro che fossero ma chiaro proprio sai guarda chiarissimo per il resto quelli che mi hanno magari oltre questo che ti ho detto delle alluvioni quelli che poi mi hanno sempre un po' lasciata più sconvolta sono i suicidi dei dei giovani e quelli ce ne sono una volta è arrivato un ragazzo si sarà accoltellato lui da solo pensa tu ce ne sono guarda cose che uno potrebbe raccontare però ecco da un punto di vista di casi come quelli che poi sono alla ribalta con la cronaca giù a Messina non era mai successo niente quindi non posso dire di aver avuto una particolare ispirazione tratta da qualcosa che mi è successa veramente come medico legale però è chiaro che da oggi da domani avere quel tipo di rapporto con la morte tutte le cose che possono succedere e che si possono vedere mi lasciano dentro delle sensazioni che poi chiaramente ho fatto dire ad Alice a proposito della morte questo sì quindi questo io lo devo all'attività effettiva di medico legale ma infatti c'è una frase poi che parla riferito alla madre di Alice dove dice che la medicina secondo la madre ha un senso mentre il medico ha un senso mentre il medico legale forse un po' meno e Alice invece la morte ha a che fare con la vita sì ma poi non solo io a suo tempo quando l'ho scelto e l'ho dovuto spiegare a casa che già mi vedevano insomma medico di tutt'altro tipo sinceramente quando poi ho dovuto spiegare questa cosa ai miei a mia nonna anche soprattutto che gli faceva veramente impressione questa cosa qui io l'ho spiegato che è tanto importante prendersi cura del bene salute no? è fondamentale però quello di cui alla fine si prende cura il medico legale è il bene verità e che non è che voglio dirti e poi di rango inferiore rispetto al bene salute certo quando io poi ho scelto di fare il medico legale ho dovuto chiudere con l'idea tradizionale della medicina cioè io non avrei mai aiutato nessuno a guarire di una malattia cioè questo è proprio ne ero consapevole l'ho scelto no? e niente questo poi ha determinato che mia nonna da me non si è mai più fatta dare neanche un'aspirina una Alessia che ne pensi quando qualcuno sta male telefonano a casa e chiedono di mio marito no ma nonna ma me la vuoi dire a me? no c'è qualcosa secondo me anche di Freudiano vabbè e senti un'altra domanda è che se i due protagonisti poi della serie c'è la Mastronardi e l'altro impersonano bene Conforti secondo me è proprio ottimamente sono loro fatti e finiti sono meravigliosi sono stati veramente una grande fortuna e finché ci sono siamo tutti contenti ecco ecco poi c'è qualche elemento autobiografico nell'amore di Alice per Conforti sei stata innamorata del tuo professore tanto so che tu direi di no vero? no allora dunque io dico di no perché è no perché è no chiaramente esattamente come tutte quante le varie discorsi come i discorsi che facevamo prima sull'identità certe cose che fa Conforti poi alla fine molto banalmente pensieri come dicevo alcune volte sono anche miei quando certi giorni mi sveglio molto stanca o magari c'è una discussione in casa con mio marito allora mi trasformo in Conforti cioè non è che per forza l'amore di Alice cioè mi riesce così tanto bene descrivere l'amore di Alice perché io a mia volta sono stata innamorata di un Conforti voltando pagina io raccolto questa perla mio marito è stato via insomma per un congresso e poi quando è tornato mi ha detto sai ti volevo ho visto una cosa che ti piaceva te la volevo comprare poi ho pensato che bastava il pensiero scusate se non è quindi non è il mio professore però come potete è bella vero? ti ha portato l'IKEA? no guarda l'ultima volta perché siamo passati dopo una presentazione e gli ho chiesto se mi portava ma questo accadeva tipo due anni fa e mi ha portato da due anni ancora vivo di rendita di quella volta e del pensiero me l'ha pure fatto vedere io ho detto no ma guarda mi sarebbe piaciuto anche per la prossima volta se vuoi comunque una cosa che volevo chiedere a questo punto la cornice di questo di questo romano è appunto il mondo della danza che è un mondo pieno di grazia pieno di leggiadria pieno di dove i movimenti i gesti sono sono nell'ambito che funzionano seguendo le regole dell'armonia più assoluta in realtà come racconta Alessia la danza può scatenare delle passioni fortissime invidie gelosie che possono anche qua non sto spoilerando nulla ma possono anche portare all'omicidio ecco che cos'è questo mondo della danza tu lo conosci hai fatto danza da bambina come tutte le bambine sì io l'ho fatta danza come tutte le bambine però poi l'insegnante ha detto a mia madre che secondo lei non era il caso che io continuassi quindi mia madre mi ha iscritta al mini basket l'anno dopo questo è stato il mio contatto con la danza e quindi avevo sta reminiscenza che tanto favorevole non era onestamente ora a me piacciono cioè a me piacciono i miei romanzi come dire mettere degli ingredienti insomma delle cose che comunque hanno questa patina molto bella da raccontare perché mi piace sarò pure io forse sono forse sono un'esteta ma in questi romanzi io metto sempre delle belle case delle belle situazioni perché mi diverto io per prima a far così e quindi ho immaginato che la danza classica proprio costituzionalmente fosse proprio per questo un ambiente adatto a metterci uno dei gialli miei proprio perché mi dava l'opportunità comunque di descrivere un mondo che poteva essere nelle mie corde naturalmente però non avendo avuto un'esperienza diretta della danza perché le mie speranze il mio essere una giovane promessa della danza è stata proprio uccisa sul nascere e mi sono documentata e quindi ho letto biografie autobiografie di ballerini storie ho visto balletti su youtube in loop interviste di ballerini ho cercato di entrare il più possibile in questo mondo documentandomi del resto in tutti quanti i romanzi ho dovuto sempre far così cioè cercare di studiare perché anche quando ho descritto il mondo dell'archeologia io naturalmente non ne capivo niente l'archeologia mi sono messa a studiare e proprio per questo di volta in volta la scelta ricade comunque su un qualcosa che mi deve attrarre proprio perché so che ci dovrò studiare proprio tanto e la danza sinceramente mi attraeva e poi ovvio che dovendoci ambientare un giallo dovevo andare a immaginare e descrivere delle zone d'ombra naturalmente io non ho la pretesa di dire che il mondo della danza è così come l'ho descritto io io ho immaginato che in questo tipo di ambientazione ci fosse come dire una forma di autodisciplina portata all'eccesso e di ossessione verso la perfezione elementi che a me servivano appunto per costruirci un giallo di quei meccanismi come li amo io che chiaramente vorrebbero apparentarsi con quelli di Agatha Christie fondamentalmente al meccanismo del giallo chiuso in cui tutta una serie di persone sono potenzialmente sospettabili e quindi ho descritto questo mondo un po' interpretandolo a partire anche da precedenti illustri dal film Scarpette Rosse il Cigno Nero questo era un mondo cioè già questi temi non ho scoperto l'acqua calda perché di fatto erano già stati proposti però naturalmente io lo volevo fare a modo mio e poi quello che in realtà ho voluto mettere come più sentito da parte mia è un qualcosa che si inseriva in questo mondo della danza ma in realtà avrebbe potuto secondo me inserirsi in qualunque tipo di scenario è l'invidia della gioventù e questa è una cosa che a me suzzicava da descrivere l'invidia nei confronti delle cose che sono passate e non possiamo più rivivere e invece qualcuno accanto a noi ha ancora tutta quanta la vita davanti e ha ancora tutte le cartucce da potersi giocare e quindi ha un ventaglio di possibilità che a noi arrivati a una certa età sono precluse credevo che l'esasperazione di questo tipo di sentimento avesse comunque dei margini narrativi molto interessanti non avevo memoria che l'argomento fosse stato trattato di recente e quindi ho pensato che proprio fosse adatto insomma a raccontare una bella storia guarda io ho scoperto ma di recente che Dazzieri definisce i romanzi quelli lì che sono un po' più patinati lo so lui il mio ufficio Tommaso dell'ufficio stampa ride sempre perché abbia scoperto insieme questa cosa ce l'ha raccontata un giornalista una volta mentre mi facevo in intervista che pare che Dazzieri abbia detto che in generale i gialli che sono un po' più patinati lui li chiama li definisce i gialli della contessa naturalmente senza alludere i miei nulla di personale però lui ha questa definizione i suoi al contrario sono chiaramente quell'hardboil che ci diceva e lui chiaramente magari l'avrà detto come un qualcosa molto lontano da sé che magari se il caso non gli piace io invece personalmente di questa definizione leggere la contessa sono andata in estasi perché ho detto sono i miei sono i miei e quindi più giallo della contessa senti di così ecco tra l'altro c'è un'altra scrittrice che è anche lì perché ne cita veramente tante c'è Nancy Mitford anche lì perché la morta sta leggendo Nancy Mitford e anche questo il mondo vittoriano ma guarda io peraltro le ho fatto leggere cioè la protagonista leggeva Inseguendo l'amore io l'ho fatto dirgli in inglese perché secondo me il titolo in italiano dovete perdonarmi ma non si può sentire Inseguendo l'amore però in realtà io quello che più ho amato è l'amore in un clima freddo anche se poi il finale per certi cosine era anche abbastanza disturbante però quello lì è il mio mondo cioè mi piacciono queste cose quindi poi le inserisco dove posso quando posso e le Mitford sì peraltro adesso è uscita ho conosciuto un'autrice inglese che ha scritto dei gialli in cui le protagoniste sono le sorelle Mitford quindi sì è vero è la la Fellaways sì è la figlia di Fellaways sì perché è uscito ma è uscito anche è uscito con Harry Pozza da Harry Pozza esatto è uscito con Harry Pozza sì ce l'ho ovviamente però ancora lo devo leggere e niente la Mitford a me piace perché c'è quella grazia molto crudele sì 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 è così mi piace ok ma senti tutti i grandi autori di gialli ma non solo arrivano a un certo punto a odiare il loro personaggio non ne possono più Conan Doyle odiava Sherlock Holmes Chandra probabilmente odiava Marlo e via dicendo ci sarà il momento in cui tu odierai Alice io lo vorrei prevenire cioè vorrei fermarmi quando ancora la amo ma soprattutto quando ancora la amano gli altri e non quando magari gli altri dicono è che il nuovo libro della gazzola sempre sulla sul medico legale cioè mi piacerebbe sinceramente individuare il momento giusto per chiudere senza arrivare appunto a questi estremi e lasciare anche un bel ricordo di questo personaggio anche perché l'allieva proprio per la sua natura ha determinate caratteristiche che in una 26enne 30enne fanno tenerezza in una persona più grande possono risultare poi a un certo punto anche irritanti cioè ci vuole che poi a un certo punto il personaggio maturi già lo sto facendo ma sta maturando sta maturando cambia molto però poi gioco forza certe sue caratteristiche le dovrebbe perdere ecco quella quella freschezza dell'età la dovrebbe perdere per forza non fosse altro perché l'età avanza per tutti e quindi non la vorrei snaturare ecco quindi per tutta questa serie di motivazioni io non la vorrei odiare e quindi credo che finirò prima di arrivare a odiarla e poi un'altra caratteristica appunto perché il tuo romanzo diceva il suo pregio è della verità ed è racconta anche questo con grande ironia con grande levità il mondo della della precarietà dei precari cioè di quelli che hanno il dottorato ma non hanno i soldi cioè il dottorato gratuito ecco dove ti ispiri per queste storie? guarda ricordati che io vengo dalla Sicilia che è una terra sfortunata da un punto di vista del lavoro e tutti quanti i miei colleghi di corso ma in realtà anche mio marito fino a prima che appunto fosse assunto in epoca anche abbastanza recente in realtà ci si è arrabbatta tutti le amiche anche quelle che non hanno fatto medicina per tutti quanti è una via crucis di sfruttamento travestito da gavetta e tutto quanto quello che si vuole recentemente leggevo proprio sul Corriere un paio di settimane fa che alcuni colleghi medici che lavorano in pronto soccorso veramente venivano pagati qualcosa tipo come alla fine 4 euro all'ora cioè sono cifre veramente impensabili è un momento estremamente difficile sul piano economico per la mia generazione e anche ben oltre la mia generazione in realtà credo che la cosa si estenderà anche a quelli degli anni 90 per intenderci non la vedo molto rosea però sicuramente noi degli anni 80 l'abbiamo presa in pieno questa cosa ma tanto e io lo posso dire per esempio mio marito è stato 3 anni giù in Sicilia con 800 euro al mese considerate che un medico paga un'assicurazione che almeno sono 3000 euro l'anno quindi cioè praticamente lavorava gratis per fare delle cose anche molto impegnative per cui diciamo che è un problema che a me sta molto a cuore anche per esperienza diretta adesso magari è una cosa per noi superata ciò non toglie che sia comunque per me una cosa molto molto calda perché ripeto ha proprio preso in pieno la mia generazione dove mi giro mi giro le cose stanno così e Grazie.